buongiorno il mio instagram del mattino ho fatto colazione sono ancora sonnacchiosa per me non ho finito di fare colazione perché ho ancora fame e mi sono preparata quattro susinette ecco quattro susinette d'orto belle mature buone ma me la frutta piace mature allora cosa ho visto questa mattina di bello tutto non avrei scartato niente no due cose che non erano proprio di mio gusto però l'ingegno io lo ammiro e e poi sì sì allora vabbè ho visto dei bellissimi golfini ho visto molto semplici puliti senza borde alcuni mi piacciono ho visto dei raglan allungati in un bellissimo kid moer puliti pulitini e sono perfetti quando ci sono le proporzioni ecco io me ne farei una collezione di tutti i colori tutti i colori che metterei poi nel moer difficilmente scarterei un colore quando invece in altri filati trovo che ci siano dei colori che non andrebbero proprio realizzati perché non rispecchiano la natura del filato mettono in risalto le belle qualità a volte sono veramente sgargiantini eccessivi no li boccio a volte bastano pochi colori pochi colori c'è un prodotto che mi piace tantissimo è un filato portoghese realizzato con cotone riciclato da capi di abbigliamento e non sempre portoghesi o spagnoli molto carino molto carino un cotone e lana che mi avete visto indossare in una maglietta poco tempo fa gloria e quello è un filato veramente interessante ma tanto interessante proposto in una gamba di colori proprio ristretta ed è perfetta per quel filato lì perfetta lui è un filato da ascoltare tra le mani è un filato interessante da indossare sembra rubido ma non lo è vischioso ecco è vischioso non è floscio non è rigido è anche morbido è strano è particolare ecco quando parlo di esperienze lui mi è piaciuto tantissimo tanto tanto tantissimo allora mi allontano due secondi ma tanto vi parlo mi sentirete un po più lontano perché ho la minu come potete sentire alle mie spalle sulla dormos che vuole le coccole stamattina mostrare in braccio che è cosa l'arara per la mia bimba ma ha un mal di pancia ai gogliamenti di pancia da meno allora la mettiamo sulle gambe e chiacchieriamo allora e sì e sì e sì perché io i filati li vivo così ecco come esperienze mi devono proprio loro interessare loro stimolare poi la creatività e pensare quale forma ma a volte proprio non è che mi ci perda nei tecnicismi perché spesso non sono necessari per far chiacchierare un filato e quindi ho visto proprio dei golfini che chiacchierano li chiacchierano bene i filati tipo adesso poi andiamo a vedere una maglietta che ha terminato max e che ho visto ieri perché poi tra l'altro devo dire che youtube funziona malissimo a me dispiace perché crea proprio degli incidenti diplomatici sgradevolissimi e ci sono persone che scrivono che commentano che pongono anche delle domande ma non pervengono non arrivano le notifiche e a volte tanti li scopro perché invece arriva la notifica di un commento del giorno mettiamo e ne scopro altri di un mese prima qualche giorno prima e come la risolviamo questa cosa non so come fare perché tutto quello che dovevo mettere aprire concedere per quanto riguarda i messaggi e commenti è stato fatto quindi proprio è un brutto ma sono talmente impegnati nel censurare che poi veramente la qualità dei servizi e loro ci mangiano è perché le pubblicità le hanno quindi veramente penso ma mi dispiace mi scuso perché a me piace interagire perché spesso date delle notizie comunicate delle dritte date dei consigli manifestate bei sentimenti e mi dispiace perdermeli e non so come fare veramente mi dispiace quindi ho scovato anche dei video di altri di persone che mi piace seguire interessanti che sono stati pubblicati da tempo e mi viene un po nervosetto ne ecco e vabbè quindi adesso poi vado a scorrere con le immagini e vado a cercare quella maglietta di max perché è interessante quella maglietta perché a parte mi piace la forma il design ma quella maglietta fa chiacchierare un filato adesso io non lo posso toccare quel filato però ecco quando diciamo cosa ci faccio con questo filato tutto così bello variegato ecco quella maglietta mette in risalto come ha detto max un monocromatico non la renderebbe così non renderebbe quella costruzione come lo ha reso quel particolare filato che crea un motivo grazie alla colorazione allora quando ci piacciono modelli così e non abbiamo di nostro gusto al momento sotto al naso tra le mani o non lo troviamo online un filato che ci garbi o che ci possiamo anche permettere perché ci sta anche quello perché magari ci piace quel dato filato ma al momento non vogliamo fare altri acquisti non possiamo fare acquisti cioè non ci interessa altro magari da quel sito e quindi verrebbe assai costosa la commissione come lo potremmo fare possiamo realizzarci degli scine mettendo insieme filati che abbiamo o che sappiamo possiamo recuperare ad un costo inferiore vuoi al negozio del paese al mercato che poi ci sarà ecco e quindi gli scine che non sono dei prestampati sono degli effetti che possiamo creare noi mettendo insieme due filati della stessa qualità oppure no ma in colori diversi ecco che quando li lavoriamo si attorcigliano tra loro casualmente quindi oltre ad avere un effetto bicolore abbiamo anche la distribuzione di questi due colori che diventa casuale e quindi abbiamo una macchia di colore che si manifesta in pochi millimetri in un centimetro è tutto molto movimentato poi se il filato è regolare otterremo una texture regolare e quindi adesso poi vi faccio vedere anche la maglietta di max perché è una maglietta che mi farei che mi corrisponde come gusto come 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 forme mi non stai bravina ecco e allora stamattina maglietta ecco che mi piace anche questa che la storia io poi so ciecata mi piace la foto bella pulita chiaro mi piace mi piace questa foto è una bella foto che ne verrebbe anche un bel manifesto secondo me bei colori bella quella c'è mi piace quel calzone tutti quei particolari messi in evidenza quella bella quella cerniera quella è bella bella il colore della pochette è proprio una bella foto proprio proprio una bella foto e mi piace questa canotta perché mi piace questa canotta intanto perché mi pare che sia una lavorazione sì quindi lavorata in orizzontale mi piace quella spallina mi piace proprio il design di questa maglietta e il filato il filato è perfetto il filato è perfetto perché disegna bene la maglia rasata è bella è proprio bella bello nel suo colore che non capiamo è bello quel filato è venuto bellissimo gli hanno fatto un ritratto viene voglia io vorrei sentire come è tra le mani e mi piace quella spallina la proporzione la dimensione della spallina mi piace proprio perché che è una è una scella diciamo ben vestita che dona ecco poi vabbè magari non tutti avremo delle belle spalle o delle spalle disegnate in un certo modo saremo magari già in condizioni di dover fare il saluto della regina e pazienza però ad esempio questa canotta per chi avesse bisogno di indossare un capo elegante ecco questo è un capo elegante ma è anche un capo molto molto giovane è un capo che sta bene a tutte però ricordo che il saluto della regina spesso anche persone molto giovani perché purtroppo non tutti abbiamo una pelle elastica o abbiamo patito dei dimagrimenti delle variazioni di peso e quante cose no ecco non esiste poi la perfezione ma ci piace indossare un capo così magari siamo persone che appattiamo il caldo quindi abbiamo bisogno di vestirci sia a strati ecco però ci piace avere magari proprio le braccia libere io trovo bellissimi i top anche in seta anche in cotone anche in lino mistolino ma anche proprio non invernali indossati con dei cardigan belli fuffosi mi piace adesso poi vi farò vedere il contrasto spesso che si ottiene tra un filato bello pettinato sottile non peloso che ha una distribuzione di colori tinto in stampa ottenuto con una stampa nella sua lunghezza con un filato completamente diverso che però ripete gli stessi colori tinti in stampa e il filato in questione è un filato molto fuffoso tipo il momi che stiamo conoscendo di lollo crea e quindi magari vorremmo un sotto che gli assomiglia ma magari lollo crea in questo momento non ce l'ha e ce lo facciamo non ce lo facciamo non sarà un effetto preciso della tintura in stampa perché è un effetto particolare ma noi possiamo creare degli cinè ad esempio mettendo insieme scozia di due colori che riprendono i colori dominanti del momi possiamo mettere insieme confetto quei filati che sono magari un po' dolci non proprio pettinatissimi però molto diversi dal momi ecco che creiamo quel contrasto ma magari anche con i cotoni e il moher messo doppio magari ci mettiamo abbiamo già questo bel filato di moher abbinato all'urex magari il lino con il moher ecco che possiamo crearci dei contrasti cioè avere un sotto molto leggero noi già abbiamo una bella escursione termica siamo già intorno ai 13 12 14 anche meno io sento bello freschetto e poi arrivano i 28 all'improvviso ecco che un top così è un bel cardigan fuffoso come quello che quel golfo che vi abbiamo ritratto da dalla rocca di monte fiascone la signora che stava al tavolo vicino al nostro su all'enoteca andate all'enoteca delle rocca è un luogo carino peccato all'interno non sono andata ma all'esterno ha una vista poi tutto quella pietra sentirsi in alto vedere i tetti delle case le colline tutti i campi è bellissimo la rocca di monte fiascone ecco quella signora aveva un bel golfo fuffoso noi eravamo tutte sbracciate perché c'era un caldo dell'ostrica quel giorno lì non ci siamo portati niente a presto abbiamo fatto tardi c'era un freddo dell'accidente la cima un vento un freddo abbiamo potuto un freddo abbiamo coperto la bimba ma noi abbiamo avuto freddo ecco allora i top i top si possono portare veramente tanto noi nel lazio qua abbiamo un clima buono sono nell'entroterra ma il mare non è che ci disti chissà quanto si diciamo non è dietro l'angolo e magari un'oretta e mezzo serve per arrivare mettiamo civita vecchia però ecco non è che siamo super sfioriamo i 300 metri saremmo 280 metri ecco mi piace mi piacciono i top e questo lo trovo un top proprio proprio elegante che vestirei con qualcosa di fuffoso quindi direi che per tutto settembre questo capo si può mettere e anche ottobre voi conoscete le ottobrate romane vi devo far vedere una costruzione che ho realizzato come dedica alla provincia di roma poi ve la farò vedere ma non è non sono solo romane ecco diciamo che abbiamo un buon clima tutto sommato e dove l'estate ha un lungo abbrivio già nel lazio poi più scendiamo rimaniamo verso la costa e meglio me sento insomma pensiamo alla campania pensiamo alla nostra calabria pensiamo alla puglia pensiamo alla sicilia anche un po la sardegna pensiamo alle isolette a favignana io come ce lo vorrei trascorrere un inverno a favignana wow e poi questo bel verde ottaneo quasi bello mi piace e quindi questa costruzione mi attira mi attira proprio perché è molto elegante femminile giusta femminile che accontenta proprio è bella sul corpo femminile è bella sul corpo di donna bello sta proprio bene è essenziale è pulita è precisa è bella quella scollatura sotto al collo è proprio mi piace mi piace sono qui che la guardo dico wow che bella idea bella è proprio bella e qui e qui sì abbiamo un design che è stato messo in evidenza proprio dal filato da quel bel filato lì chissà cos'è e adesso vi faccio vedere la maglietta di max che è un po dopo intanto così scorriamo vi so dei bei pupazzi vi so delle belle cose ma non è che mi posso super male su tutto mannaggia quella borsetta l'adori pupazzetti che ve lo dica fare belle mattate le bambole senza bocca sapete che io no mi dispiace avranno anche una storia ma io no grazie ce l'hanno tappata anche troppo la bocca e vediamo vediamo scorriamo pupazzetti li adoro mannaggia e filati belli filati e loro c'erano lei lei è deliziosa è proprio carina vai senza bocca e lui voglio dedicare proprio a questo canale una mattinata poi è questo è un cantiere abbiamo visto venezia un bel golf guardate com'è bello pari france non ve lo so pronunciare poi ve li farò vedere ci torneremo sopra belli avori ecco questi io li adoro questi golfettini mi piace il collo che sale un po così e sono due filati diversi mi piace mi piace mi piace mi piace e doro in questa bella la ceniglia questa questi filati sono bellissimi e sanno proporre dei pupazzi adorabili abbiamo il riccio il riccio il riccio solitario il figlio della eli lui è simpaticissimo lo adoro questo ragazzo abbiamo le nuove colorazioni qua all'allocrea con una tina tarna di sottofondo un punto strega ne parleremo del punto strega dei filati belli con il punto strega una bella borsa della mamma del riccio eccola qua la maglietta di max oh lei mi sta mi sta proprio come genere mi sta mi piace questa maglietta allora intanto questo motivo questa maglietta ha bisogno di un filato ma è vero un buon filato una bella costruzione va bene si vede poi il diagonale un po si vede ma non tantissimo ecco che un filato tinto in stampa e qua abbiamo dei ritmi particolari nella stampa poi adesso non riesco neanche a vedere la lavorazione ma ci sono delle variazioni di punti max poi ce la devi spiegare sta maglietta perché me la voglio fare mi piace perché non ha bordi in basso mi piace la maglietta corta così la manica corta mi piace sì mi piace proprio lo scollo mi piace e ecco che quando abbiamo magari non ne serve tantissimo di filato qua no ci va ci vanno questi filati un po variegati e poi non li sappiamo mai pochi li vedo lavorare li vedo scegliere per pattern che vengono nascosti completamente progetti che vengono nascosti da un movimento di filato ed è un peccato perché è un'ingiustizia nei confronti di un design di un progetto e anche nei confronti del filato che lo facciamo diventare brutto magari brutto non era e noi non siamo contenti ecco questo è un progetto perfetto per questo tipo di filato guardate che come cambiano i motivi ecco per noi che maneggiamo lo lo crea ad esempio non è tinto in stampa così però il sock si presta ecco il sock mi potrebbe interessare perché mi piace proprio a contatto con la pelle e mi piace questo progetto di max adesso non riesco bene a capire il calibro però serve anche un filato che regga e che non sgalembi che non vada poi per tutti i versi quindi max ci darà le istruzioni per questa maglietta io mi devo finire di ascoltare un po' di suoi video perché poi intanto me li vado a cercare anche quelli vecchi perché si conoscono così poi le persone il percorso mi piace che non ho tempo per fare tutto come voi insomma come tutti vorrei fare tante cose e quindi ecco qua la maglietta di max mi garba a parte bello il suo mobile pieno di filati quanta roba che vedo bello ci piace tutto bello ci piace tutto questa maglietta è ganza questa è una maglietta proprio ganza una maglietta sportiva che possiamo rendere più chic che poi non è più chic perché non diciamo che possiamo aggiungere un tocco di luce lo possiamo fare con dell'urex oppure con un filato già luminoso di suo serico abbinato a qualcos'altro ecco se non abbiamo come ripeto dei tinti in stampa o non possiamo acquistare il filato che ha utilizzato max per vari motivi insomma creiamoci degli scine perché la lavorazione il bicolore ce la disegna ecco la costruzione in diagonale bello mi piace mi piace questa maglietta già questa mattina avrei cominciato un sacco di lavori perché poi quando mi piacciono li vorrei fare tutti subito tutto voglio tutto non riesco a fare niente poi perché faccio tante altre cose per me faccio poco questa la farei proprio per me per come sono vestita oggi con i miei pantaloncini vorrei una maglietta blu e poi no bianca ho voglia di blu e rosso però ecco una maglietta blu e rossa così non la farei è bello poi ecco cos'è che mi piace quando qualcosa mi fa mi spinge a ragionare ma piace bene adesso vi saluto qua faccio la maglietta di max porto la menu fuori vediamo se le passa il mal di pancina muovendo un po' le zampette perché quando vuole il calore della mamma marca male e quindi andiamo a muovere ci andiamo a salutare la titti e gli ha portato il dolce per la sua cena con il figlio dei vicini che non ci sono più e quindi andiamo a sentire come è andata ecco andiamo a sentire se gli è piaciuto il dolce la titti vado a farmi anche un caffè va che il tè ormai il tè che poi non ho fatto il tè mi sono fatta un'infusa frutti rossi mi mangio le quattro susine mi faccio un caffè vado dalla titti a poi ciao